Salve a tutti ragazzi, qui TTD e benvenuti in questo nuovo video di Watch Dogs 2 Andiamo avanti con la storia, però con le missioni principali non possiamo ancora Perché c'è il blocco dei follower, dobbiamo ancora fare un po' di follower Per fortuna ho già qua una missione che ce ne dà abbastanza E dobbiamo umiliare il CEO della Aum Andiamo, andiamo ragazzi Va bene ragazzi, ci siamo, siamo al punto della missione Andiamo a vedere cosa è successo più che altro Mi c'è che devo parlare qui? Ah, ok Ah, il CTOS, ok, disattivato Non so che cazzo sia sto gattino che compare sullo schermo, sinceramente Devo capirlo Ok, parte la missione, perfetto Ah, ok E quindi? Qual è la Qual è? Ah, è quello là? Ehm, con la telecamera? Accelera Accelera, accelera, vai Vai Vai, vai, corri, corri Lol 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 No, con la scena interrotta, ma perché? Ok 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 Ehm, beh Oh, ok Va bene Missione completata, perfetto Quindi, abbiamo fatto? Basta sto gattino, mi hai rotto il cazzo Devo rubare un'auto Ah, aiuto Ok, lasciamo perdere Ok Posto, la polizia non ci ha notato Ehm, ok Andiamo a vedere le prossime missioni Ok Updates Che vediamo un po' Ehm Operazione principale Oh Guerra tra hacker Eccoli il gattino di merda Eccolo qui Va bene, andiamo ragazzi Obiettivo Scopri da dove arrivano i gatti Eh, infatti Quei gatti che ci sono su schermo Che rompono anche molto i coglioni Va bene Andiamo a vedere da dove arrivano Visto che Oddio È anche lunga Va bene Andiamo Grazie 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 Attenzione a Josh Attenzione Forse hai capito cosa vuol dire Culo e merda Ok Quella lì fa Ehm Pau Cioè, non paura È pazza È pazza Comunque Allora Avevamo detto Un po' di tempo fa Che dovevamo creare Delle armi migliori E finalmente Possiamo farlo Ho raccimolato un bel po' di soldi Quindi possiamo Creare delle armi buone Allora Vediamo un po' Abbiamo le smg di merda Ma noi Non vogliamo le smg O la pistola inutile Vogliamo dei cazzo di fucili Dei fucili belli Vediamo un po' Che cazzo possiamo creare Allora Una k ci starebbe Solamente perché la k Ok Creiamolo A posto La k ce l'abbiamo Trentamila dollari Andati via Perfetto Eccolo qua E tra parentesi Obiettivo E la E la Con la stampante Ragazzi Stampiamo gli ak Gli ak stampiamo Vabbè Ridicolo Ma finalmente Ce l'abbiamo Non si tiene così Il fucile Ma vabbè Vabbè Marcus Ok Creiamo anche il drone Il drone che ci può Servire No 67 mila dollari Oh ma costi troppo Ok Cioè Va bene Ok Non possiamo creare Nient'altro Forse No Nemmeno No Abbiamo la k Non possiamo creare il drone Costa troppo Nuova operazione disponibile 9 1 1 E beh Con i dollari anche Ok Vediamo un po' Allora Abbiamo una missione qua Va bene Andiamo andiamo a farla Affronta Lenny Mamma mia che nome Andiamo ragazzi Anche vicino Ma andiamo Ok Eccoci qua ragazzi In un bar Ma Oddio Ok Vediamo un po' Grazie a tutti 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 Ok Io credo che ci sia un problema Un problema mentale di qualcuno Cioè Ragazzi Ho capito che questo Non è GTA Però Cazzo Se rompono così tanto il cazzo Basta una pistola Cioè Vuoi che non parli? Boh Gli si spara Non è difficile Ok 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 Rond Steiner Va bene Ok Va bene Andiamo Andiamo al A questo posto Più che altro Perché non so dove sia Ok Andiamo ragazzi Ok ragazzi Eccoci qua Andiamo a sentire Ciao E chi dovresti essere tu? Guli Ok Ok Auguri Devo ammazzare tutti Sì ma questa è contraddizione pura ragazzi Non ha senso Cioè Sono venuto qua E se mi scoprono Posso ammazzare tutti Ma non lo potevo fare anche con Lenny Non sarei mai dovuto venire qua A sbattermi fondamentalmente Vabbè Scopriamo un po' Dove devo andare Ok Lo farò Come voglio Quindi Potremmo usare le telecamere Ah Compari Ok Proviamo con le telecamere E là Possiamo distruggere questo Andate a vedere Andate a vedere Andate a vedere Ma Sei mongolo 3 2 1 Ciao ciao Non è successo niente Non è successo niente Mi troverete Tranquillo Saliamo Ok Aria vietata Ok Usiamo questo E se ce la faccio Ah Devo usare quello Immagino Eh Ma come ci arrivo Tranquillamente Proviamo con questo Ok E' qua sopra Cioè qua sotto Oh la madonna Quanti cazzo siete Ok Raccogliamolo Andiamo a piedoni Direi a K Impugnato Andiamo ragazzi Proviamo la K Gli ammazziamo tutti Ok Un è andato Aiuto 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 Mamma mia S'è difficile Sparare Ah Aiuto Ok Morto Ah Il cane Mi dispiace Cane Ok 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 tu sei andato Esci Ok Quello è andato Ok Anche te sei andato Porca puttana Ok Devo trovare Ok Aiuto Ma è arrivata la polizia Aia Aia Mi sa che ho fatto una bella cagata Ragazzi Ho fatto una bella cagata Di quelle grosse Ok Ok morto Ok morto Uomo armato E ce n'è anche Più di uno Ma dai Ma la polizia Ovunque Porca puttana Devo riuscire A uccidere Questo poliziotto Mamma mia S'è difficile Sparare Veramente Ok Questo è andato Andiamo ragazzi Serve un 10-13 Vabbè Ok Il primo è andato Ok Passiamo ai prossimi Oddio Oddio Arriva la pula Ovunque Ok morti Mi dispiace poliziotti Ma Non potete far niente Ora Sali Marcus Muoviti Madonna C'è anche l'elicottero Credo di aver fatto Una bella cagata Ok Entriamo qua dentro Che ci sono i dollari Qua Più 19 19 mila Ma cosa aiuti Le unità di terra Ok Non so come scapperò Però ce la farò Forse Forse Andiamo Andiamo a prendere L'ultimo Bancomat Grazie Per spaccarmi I timpani Ne avevo bisogno Ok Uh Abbiamo la barca Aiuto Eh sì Non sarà facile Andiamo via Con la barca Ragazzi Andiamo via Con la barca Ma dai Ma ci sono anche Le barche nemiche Vabbè Non ce la farò mai Ho già capito Aiuto Aiuto Aia Aia Andatevene a fanculo Devo riuscire a scappare Da Lely Di qua Ah Sali No Fottuto Elicottero Fottuto Elicottero Di merda Dove riuscire a scappare Di qua Ok Forse Così Se Non ce la farò mai Con l'elicottero Ma guardate Oh mio dio Quanto cazzo Sei forte Ok Via Devo ucciderlo Ma che cazzo Mai mi colpisce Muori Oh Finalmente Morto E in più No Mio dio Ma solo a me Mi capitano Ste cose Ma veramente Aia Aia No Dai Per l'amor di dio Non mi rompete il cazzo Ma vaffanculo Ok Ce l'abbiamo fatta Ragazzi Finalmente Wow L'ho dovuta rifare Tutta la missione Ragazzi Mamma mia Che palle Ok Scappiamo Perfetto Ce l'abbiamo fatta Ragazzi Va bene ragazzi Direi che per questo episodio Di Watch Dogs 2 È tutto Spero che il video Vi sia piaciuto Se vi è piaciuto Lasciate un bel mi piace E Commentate E iscrivetevi E noi ci vediamo Al prossimo episodio Ciao a tutti ragazzi